La Lega Pro è in stato di agitazione e in questa situazione il campionato di Serie C non so se parte. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, cerca di far smuovere ciò che da tempo è ancora immobile riguardo alla ripartizione dei diritti televisivi che sono ancora esigui per le società di calcio iscritte al campionato di Serie C. Ghirelli, così come il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha avuto, dice lui, diversi contatti con i sottosegretari Giorgetti e Valente affinché venisse valutata la possibilità di una defiscalizzazione per i club di Lega Pro, per la pallacanestro e il ciclismo. Si sarebbe dovuto procedere mercoledì con l'emendamento da inserire nel decreto crescita, invece questo non è stato fatto. Abbiamo chiesto non soldi a fondo perduto, chiarisce Ghirelli al Corriere dello Sport, ma un tax credit a cui le società di Lega Pro avrebbero avuto diritto se avessero potuto investire nel proprio settore giovanile e dare la possibilità di formare giovani calciatori per le serie superiori e utilizzare lo sgravio per infrastrutture sportive al servizio dei vivai. Siamo il calcio dei comuni d'Italia, ma ci ignorano. Quindi c'è il rischio che la Lega possa chiedere di non dare inizio al campionato di Serie C, ma c'è anche una speranza che lo stato di agitazione possa rientrare, poiché Ghirelli si augura di riuscire a sensibilizzare il governo sulla questione vivai.